Ciao a tutti amici di Monclick e Monclick Magazine, ben ritrovati! Io sono Maria Frassetti e oggi vi voglio parlare dei 5 motivi per i quali dovreste scegliere il tablet Huawei MatePad Pro. Prima di entrare però nel vivo di questo video, come sempre, sapete quello che dovete fare. Iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare le notifiche per essere sempre aggiornati sui video che pubblichiamo. E adesso sigla! Motivo numero 1, le prestazioni. Huawei MatePad Pro è un dispositivo di fascia alta che assicura delle prestazioni davvero di alto livello. Infatti a bordo troviamo un hardware top di gamma. Abbiamo innanzitutto il potente processore Kirin 990 supportato da 6 GB di memoria RAM e da ben 128 GB di storage interno espannibile mediante memoria proprietaria Huawei. Io ho utilizzato Huawei MatePad Pro in diversi contesti, quindi per esempio per navigare su internet, per accedere ai social media, ma anche per gestire la posta, lavorare su documenti office e ancora ascoltare la musica, guardare una serie tv o un video su YouTube. Il tablet è molto fluido e reattivo, tutto gira molto, velocemente e senza problemi. Motivo numero 2, la produttività. Huawei MatePad Pro è un dispositivo pensato per lavorare. Il tablet integra tutta una serie di funzionalità molto interessanti e utili pensati proprio per avere tra le mani uno strumento di lavoro agile e smart in qualsiasi contesto. La prima funzionalità di cui vi voglio parlare è il multitasking o multi-window. Questa funzionalità permette di affiancare due diverse app nella stessa schermata e quindi questo permette poi di lavorare senza interruzioni su due ambiti diversi, su due ambienti di lavoro, avendo tutto sotto controllo in un'unica schermata. La seconda funzionalità è la modalità desktop. Semplicemente agganciando la tastiera magnetica avrete a disposizione un tablet che diventa all'occorrenza un vero e proprio mini pc portatile, un piccolo computer trasportabile facilmente ovunque voi andiate in cui è possibile lavorare in un ambiente molto simile a quello di Windows con le applicazioni che si aprono in finestre. Motivo numero 3 La multimedialità Huawei MatePad Pro è un tablet che strizza l'occhio sicuramente al mondo business ma è anche un dispositivo pensato per la multimedialità. Infatti devo dire che guardare un film o una serie tv oppure ascoltare la musica su questo dispositivo è davvero un piacere sia per gli occhi che per le orecchie. Questo è possibile perché il tablet dispone di un display davvero generoso da ben 10,8 pollici con risoluzione 2560x1600 pixel. Si tratta di un display LCD con tecnologia IPS ma la cosa davvero eccezionale è il fatto che abbia delle cornici sottilissime e questo permette ovviamente di fruire al meglio di quello che si sta visualizzando sul nostro schermo. L'altra caratteristica molto importante dal punto di vista multimediale è il comparto audio che è caratterizzato da ben 4 speaker Armand Kardon che sono disposti uniformemente sui due lati più corti del tablet. Questo permette di avere un suono non soltanto cristallino e potente ma anche avvolgente e immersivo. Motivo numero 4. La versatilità. Huawei MatePad Pro ha dalla sua non solo una grande versatilità per il fatto di poter essere utilizzato in ambito business e multimediale ma anche per il fatto di poter essere utilizzato insieme a una serie di accessori opzionali che possono essere acquistati separatamente che ampliano ancora di più il suo utilizzo. La M Pen può essere utilizzata sia per navigare all'interno del tablet sia all'interno di applicazioni. In particolar modo ce ne sono due proprietarie di Huawei. La prima è Nebo for Huawei che permette di creare delle note scrivendo appunto a mano con il pennino e di digitalizzare il testo. La seconda applicazione di tipo più scientifico-matematico è invece MyScript Calculator che permette di scrivere dei calcoli matematici appunto a mano libera e poi di avere il risultato in automatico dall'app stessa. Per quanto riguarda invece la tastiera si tratta di una tastiera che si aggancia magneticamente e che ha anche una funzione protettiva, funge anche da cover. Pur trattandosi di una tastiera molto piccola per le dimensioni ovvie del tablet e pur mancando anche il trackpad, devo dire che non ho avuto nessun tipo di problema nella scrittura. Infatti i tasti sono sì molto piccoli ma ben distanziati tra di loro e questo permette appunto di scrivere davvero agevolmente e comodamente senza grossi problemi. Motivo numero 5. Il design. Huawei MatePad Pro è un dispositivo bello da utilizzare ma anche bello da vedere e da portare in giro. Dal punto di vista estetico ho apprezzato prima di tutto i profili e i bordi arrotondati che assicurano una presa davvero solida e una grande maneggevolezza. Un altro aspetto importante da sottolineare per quanto riguarda il design è la qualità costruttiva e l'utilizzo di materiali premium. Infatti nonostante la scocca sia realizzata in metallo e quindi sia un tablet anche robusto e solido è assolutamente leggero. Infatti pensate che pesa appena 460 grammi e lo spessore è di appena 7,2 mm. Ricapitolando, quali sono i 5 motivi per i quali dovreste scegliere il tablet Huawei MatePad Pro? Motivo numero 1. Le prestazioni. Motivo numero 2. La produttività. Motivo numero 3. La multimedialità. Motivo numero 4. La versatilità. Motivo numero 5. Il design. Termina qui questo video. Spero che vi sia piaciuto. In questo caso fate un bel like e se avete delle domande lasciatele come sempre nei commenti qui sotto. Io sono Maria Frassetti di Moonclick e Moonclick Magazine. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornati sui video che pubblichiamo. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!